ben trovati siamo presso il liceo alfonso gatto di agropoli con radio gatto quindi con i componenti di questa bellissima realtà che è nata da poco cioè non sono tantissimi anni però insomma sono già operativissimi questi ragazzi però ci facciamo raccontare come nasce ecco l'idea la voglia di realizzare un progetto del genere allora si diciamo che il nome prima di riccardo riccardo diciamo che l'esigenza di voler creare questa radio nasce in seguito a due pcto che abbiamo fatto uno che abbiamo fatto appunto in quarta con con gianni petrizzo e poi un secondo che abbiamo fatto durante il quinto anno durante sempre il quarto anno con appunto i ragazzi di edu active ci hanno assistito questi ragazzi eugenio matteo danilo pietro ed ena e ci hanno appunto portato anche a cesena direttamente nel loro territorio appunto a farci vedere proprio la radio e come viene fatta e proprio durante il viaggio di ritorno letteralmente sul treno due dei nostri creatori appunto pietro e lorenzo decidono di voler fare questa di portare questa avanti questa idea della radio proprio ad anche perché ci siamo resi conto che a cesena per esempio che comunque una città abbastanza grande c'erano c'erano molte radio alcune scuole avevano la loro radio e loro abbiamo detto perché non portare anche nella nostra scuola d'agropoli questa questa idea e abbiamo siamo appunto partiti col fare dei podcast poi però il nostro obiettivo è quello di riuscire a creare proprio una vera e propria web radio verso comunque aprile e omaggio quindi diciamo che comunque l'obiettivo nostro è quello di voler dare voce a tutti gli studenti no perché è vero noi siamo cinque i creatori i fondatori però chiunque si può unire cioè infatti abbiamo avuto comunque moltissime aggiunte che ci hanno aiutato poi si dividono in chi fa appunto la grafica chi fa gli speaker oppure comunque chi fa solamente si occupa della scrittura bene chiediamo ad Antonio invece se c'è poi un palinsesto di questa radio insomma come programmate il lavoro del gatto della radiogatto allora ovviamente diciamo che in primis la prima cosa fondamentale per me è soprattutto il giocare con le parole e quindi abbiamo una serie di piccoli format in relazione proprio al gatto di per sé quindi abbiamo principalmente programmazioni legate o alla diffusione del di argomenti territoriali o di come appunto dice gattopoli poi abbiamo attorno al gatto inerenti invece al nostro stesso istituto poi cine gatto per quanto riguarda la cultura e infine anche prof gatto che è legato all'educazione alla sensibilizzazione per quanto riguarda un palinsesto per il momento puntiamo sempre su una pubblicazione settimanale o al massimo due pubblicazioni settimanali però ovviamente come ha detto anche riccardo prima il nostro obiettivo è la web radio e quindi quando si parla di web radio si parla di un palinsesto relativamente fitto quindi con un evento al giorno e ovviamente abbiamo prima bisogno di formarci bene per poi effettivamente riuscire a portare qualcosa di concreto e un palinsesto importante ecco che cosa ne pensano i vostri coetanei quindi i vostri amici di scuola di questa realtà sicuramente durante la prima assemblea di istituto che abbiamo fatto sia nella sede di liceo scientifico che di liceo classico abbiamo avuto tanto tanto ascolto tantissimo interesse infatti tanti ragazzi devo dire anche quotidianamente riescono a darci sempre un un supporto tant'è vero che adesso abbiamo anche aperto dato spazio ai ragazzi più creativi per un jingle quindi per una sorta di piccola una piccola sigletta per la nostra radio e stiamo già ricevendo anche alcune alcune risposte siamo stati già contattati con delle piccole melodie quindi anche la luce di questo servizio ne aspettiamo di altri e quindi alla luce di questo servizio di quello che ci siamo detti diamo dei riferimenti a chi lo seguirà come ascoltare radio gatto ovviamente sì su spotify ci potete trovare semplicemente cercando radio liceo gatto e anche su instagram ci trovate come radio gatto